Salute, buongiorno, ben trovati da Piazza Angelina, qui con un gran bel rispiegamento. Allora, oggi ricordiamo le listime della strada, è un evento molto dal comune, troppo è un evento che si contiene a contatto d'altro. Noi portiamo anche delle statistiche che ci registraranno, dove purtroppo il numero di suono che apprena aumenta, infatti in Europa risultiamo due primi, un servizio di stradali dove purtroppo la percentuale più alta è il risultato dei giovani che perdono la gira. Cerchiamo di possibilizzare i giovani ad un corretto uso del cellulare alla guida, di non fare l'uso di sostanze sulle facenti e alcoliche, perché i suoi migliori alterano l'associazione psicofisica e quindi aumenta il pericolo specificamente alla guida per il volare. Guardate le statistiche, come avete ben preannunciato, che colpevolizzano, qua stanno chiedendo dei giovani settimanalmente sulla costiera amalfitana, sul tratto di Castellammare, se sulle nostre strade, ma ha soluzione uguale a queste strade? Allora, la soluzione non è tanto per rincomitare le porte del tuo diritto, ma è sensibilizzare i problemi che si mette alla guida, perché purtroppo nella maggior parte degli incidenti che rileviamo costaniamo che le statistiche sono dovute al non corretto uso del cellulare, che è una distrazione. In molti casi troviamo purtroppo conducenti positivi all'alcol e le sostanze sono efficenti, quindi in queste condizioni purtroppo la guida non sarà mai sicura. Da parte vostra che siete in front line, sull'Alminia di Guenta, vi ho sentito chiedere bene più serenamente. Sì, al baglio in questi giorni il nuovo codice della strada, nel momento che viene sia per i geniari che per i geniari, che si commette su alcuni centri stradali, che guida con il cellulare alla mano e che fa uso di sostanze superfacenti. Vi ringrazio di questo tempo, che facciamo i nostri auguri e che sia assuoso a questa giornata per ottenere e cercare di fronteggiare questo grande problema. Grazie, grazie.